sabato santo il mattino una notte è passata sopra la tomba in cui giace sepolto il corpo dell'uomo dio la morte triunfa in quella caverna silenziosa e tiene prigioniero colui che dà vita ad ogni creatura ma il suo trionfo sarà presto giunto al termine i soldati possono vegliare come meglio vogliono su quella tomba non possono tenere prigioniero gesù non appena verrà il momento fissato per la sua risurrezione i santi angeli sono lì adorando profondamente il corpo senza vita di lui il cui sangue è quello di riconciliare tutte le cose sia sulla terra che in cielo colossesi 1 e 20 questo corpo però per un breve intervallo separato dall'anima è ancora unito alla persona del figlio di dio così allo stesso modo l'anima durante la sua separazione dal corpo non ha per un istante perso la sua unione con la parola la divinità rimane unita anche al sangue che giace cosparso sul calvario e che al momento della risurrezione dell'uomo dio sta per entrare ancora una volta nelle sue sacre vene torniamo anche al sepolcro e adoriamo il corpo del nostro gesù sepolto ora finalmente comprendiamo ciò che il peccato ha fatto con il peccato la morte è entrata nel mondo e passò su tutti gli uomini romani 5 e 12 sebbene gesù non conosca il peccato 2 corinzi 5 e 21 tuttavia ha permesso alla morte di avere il dominio su di lui affinché potesse renderla meno amara per noi e con la sua risurrezione restituirci quella vita eterna di cui eravamo stati privati dal peccato con quanta gratitudine dovremmo apprezzare questa morte del nostro gesù incarnandosi divenne servo filippesi 2 7 la sua morte fu un'umiliazione ancora più profonda la vista di questo sepolcro in cui giace il suo corpo senza vita e freddo ci insegna qualcosa di molto più importante della potenza della morte ci rivela l'immenso l'incomprensibile amore di dio per l'uomo sapeva che avremmo guadagnato dalle sue umiliazioni più grandi sono le sue umiliazioni maggiore è la nostra esaltazione questo era il suo principio e lo ha portato a quello che sembra un eccesso amiamo allora questo sacro sepolcro che deve darci la vita lo abbiamo ringraziato per essere morto per noi sulla croce ringraziamolo ma con la massima emozione per essersi umiliato per noi fino al sepolcro ed ora visitiamo la santa madre che ha passato la notte a gerusalemme ripercorrendo nel più triste ricordo le scene a cui ha assistito il suo gesù è stato vittima di ogni possibile insulto e crudeltà è stato crocifisso il suo prezioso sangue è sgorgato a torrenti da quelle cinque piaghe è morto e ora giace sepolto nel tomba come se fosse solo un semplice uomo sì il più abietto degli uomini quante lacrime sono cadute in queste lunghe ore dagli occhi della figlia di davide e tuttavia suo figlio non è tornato da lei vicino a lei c'è maddalena con il cuore spezzato dagli eventi di ieri non ha parole per raccontare il suo dolore perché gesù se n'è andato e come lei pensa per sempre le altre donne meno amate da gesù di maddalena eppure ancora a lui care stanno attorno alla madre sconsolata hanno sfidato ogni insulto e pericolo per rimanere sul calvario fino a quando tutto sarà finito e intendono tornare con maddalena non appena il sabato sarà finito per un orare il sepolcro e il corpo di gesù giovanni il figlio adottivo di maria e discepolo prediletto di gesù è oppresso dal dolore altri inoltre degli apostoli e dei discepoli visitano la casa del lutto pietro penitente e umile teme di non comparire davanti alla madre della misericordia tra i discepoli ci sono giuseppe darimatea e nicodemo possiamo facilmente immaginare la conversazione è sulle sofferenze e la morte di gesù e sull'ingratitudine degli ebrei la chiesa nel sette gradi responsorio delle tenebre di oggi rappresenta questi uomini dicendo ecco come muore il giusto e lì non è nessuno che lo prenda a cuore l'iniquità ha avuto la sua strada rimase in silenzio come un agnello sotto la sua tosatrice e non aprì la bocca fu tolto dall'angoscia e dal giudizio ma la sua memoria sarà in pace così parlano gli uomini le donne stanno pensando alla loro visita domani al sepolcro la santità di gesù la sua bontà la sua potenza le sue sofferenze la sua morte tutto è ricordato tranne la sua risurrezione che lo avevano spesso sentito dire che doveva certamente e rapidamente avvenire solo maria vive nell'attesa del suo trionfo in lei è stata verificata quell'espressione dallo spirito santo dove parlando della donna valorosa dice la sua lampada non si spegnerà nella notte proverbi 31 18 il suo coraggio non viene meno perché sa che il sepolcro deve cedere i suoi morti e il suo gesù risorgerà alla vita san paolo ci dice che la nostra religione è vana a meno che non abbiamo fede nel mistero della risurrezione del nostro salvatore dove era questa fede il giorno dopo la morte del nostro signore in un solo cuore e quello era quello di maria come era il suo grembo casto che aveva tenuto in sé lui che il cielo e la terra non possono contenere così in questo giorno con la sua fede ferma e incrollabile riprende nel suo solo se tutta la chiesa quanto è sacro questo sabato che nonostante tutta la sua tristezza è un tale giorno di gloria per la madre di gesù è per questo motivo che la chiesa ha consacrato a maria il sabato di ogni settimana ma è tempo di riparare alla casa di dio le campane tacciono ancora la nostra fede deve parlarci e renderci desiderosi di assistere ai grandi misteri che la liturgia sta per celebrare sicuramente il sentimento cristiano deve essere morto in coloro che possono essere volontariamente assenti dalla loro chiesa in una mattina come questa no non può essere che noi che finora abbiamo seguito la celebrazione dei misteri della nostra religione possiamo sbandierare ora e perdere le grazie del magnifico servizio di questa mattina era prassi della chiesa e quella che era stata tramandata fin dalle prime età che il sacrificio della messa non dovesse essere offerto né ieri né oggi ieri anniversario della morte di gesù è stato dedicato esclusivamente al ricordo del mistero del calvario e un santo timore ha impedito alla chiesa di rinnovare quel sacrificio sui suoi altari per lo stesso motivo si è astenuta oggi anche dalla sua celebrazione la sepoltura di cristo è un seguito della sua passione e in queste ore in cui il suo corpo giaceva senza vita nel sepolcro era opportuno che il sacrificio in cui viene offerto come i prioni e gesù risorto fosse sospeso anche la chiesa greca che non digiuna mai nei sabati di quaresima segue la pratica della chiesa latina per questo sabato non solo digiuna ma omette addirittura la celebrazione della messa dei presantificati tale ripetiamo è stata la disciplina della chiesa latina per quasi mille anni ma intorno all'undicesimo secolo un cambiamento importante cominciò ad essere introdotto per quanto riguarda la celebrazione della messa del sabato santo la messa che fino ad allora era stata celebrata durante la notte che precedeva la domenica di pasqua cominciò poi ad essere anticipata il sabato ma è sempre stata considerata come la messa dell'ora della risurrezione di nostro signore e non come la messa del sabato santo i rilassamenti che erano stati introdotti riguardo al digiuno furono l'occasione di questo cambiamento nella liturgia nei primi secoli i fedeli osservavano l'intera notte nella chiesa aspettando l'ora in cui nostro signore salì trionfante dal sepolcro essi assistettero anche alla solenne amministrazione del battesimo e catecumeni che esprimevano in modo così sublime il passaggio dalla morte spirituale alla vita di grazia non c'è stata altra veglia in tutto l'anno che è stata così solennemente osservata ma ha perso gran parte del suo interesse quando la necessità di battezzare gli adulti è stata rimossa dal cristianesimo che ha trionfato ovunque fosse stato predicato gli orientali hanno mantenuto l'antica tradizione fino ad oggi ma in occidente risalente all'undici gradi secolo la messa dell'ora della resurrezione è stata gradualmente anticipata fino a quando non è stata portata anche alla mattina del sabato santo durandus dimenda che scrisse il suo razionale degli uffici divini verso la fine del 13 gradi secolo ci dice che ai suoi tempi c'erano pochissime chiese che osservavano l'usanza primitiva anche queste presto si conformarono alla pratica generale della chiesa latina come risultato di questo cambiamento c'è un'apparente contraddizione tra il mistero del sabato santo e il servizio divino che viene celebrato su di esso cristo è ancora nel sepolcro eppure noi celebriamo la sua risurrezione le ore che precedono la messa sono luttuose e prima di mezzogiorno la gioia pasquale avrà riempito i nostri cuori ci conformeremo all'ordine attuale della santa liturgia entrando così nello spirito della chiesa che ha ritenuto opportuno dare ai suoi figli un assaggio delle gioie della pasqua daremo una visione generale del servizio solenne al quale assisteremo in seguito spiegheremo ogni porzione come viene il grande oggetto di tutto il servizio quotidiano e il centro a cui converge ogni cerimonia è il battesimo dei catecumeni i fedeli devono tenerlo incessantemente davanti a loro altrimenti non sapranno comprendere o trarre profitto dalla liturgia di oggi prima di tutto c'è la benedizione del nuovo fuoco e l'incenso segue la benedizione del cero pasquale subito dopo vengono lette le dodici profezie che hanno riferimento ai misteri del servizio di oggi non appena le profezie sono finite si forma una processione verso il battistero e l'acqua è benedetta così preparata la materia del battesimo i catecumeni ricevono il sacramento della rigenerazione la cresima è poi amministrata loro dal vescovo subito dopo il santo sacrificio viene celebrato in onore della risurrezione di nostro signore e i neofiti partecipano ai divini misteri infine entra il gioiosso vespro office che termina il servizio più lungo e faticoso della liturgia latina per aiutare i nostri lettori ad entrare pienamente nel suo spirito torneremo indietro di mille anni e ci immaginiamo di celebrare questa solenne vigilia di pasqua in una delle antiche cattedrali d'italia o della nostra cara terra a roma la stazione è a san giovanni in laterano madre e maestra di tutte le chiese il sacramento della rigenerazione è amministrato nel battistero di costantino la vista di questi venerabili santuari ci riporta indietro nel pensiero al quattro gradi secolo lì ogni anno viene conferito il santo battesimo a qualche adulto e una numerosa ordinazione aggiunge il suo alla sacra pompa di questo giorno la cui liturgia come abbiamo appena detto è la più ricca di tutto l'anno uguale 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 il cero pasquale il sole sta tramontando e la nostra terra sarà presto avvolta nell'oscurità la chiesa ha fornito una fiaccola che deve diffondere la sua luce su di noi durante tutta questa lunga veglia è di dimensioni insolite sta da solo ed è di una forma a pilastro è il simbolo di cristo prima di essere illuminato il suo tipo scritturale è il pilastro di una nuvola che nascondeva gli israeliti quando uscivano dall'egitto sotto questa forma è la figura di nostro signore quando giace senza vita nel sepolcro quando illuminato dobbiamo vedere in esso sia la colonna di fuoco che guidava il popolo di dio sia la gloria del nostro gesù risorto dalla sua tomba la nostra santa madre la chiesa vuole che amiamo con entusiasmo questo simbolo glorioso e ci dica le sue lodi in tutta la magnificenza della sua ispirata eloquenza già all'inizio del 5 gradi secolo papa s zozimus estese a tutte le chiese della città di roma il privilegio di benedire il cero pasquale anche se il battesimo fu amministrato da nessuna parte se non nel battistero di san giovanni in laterano l'obiettivo di questa concessione era che tutti i fedeli potessero partecipare alle sante impressioni che un rito così solenne è destinato a produrre fu per la stessa intenzione che in seguito ad ogni chiesa pur non avendo il fonte battesimale fu permesso di avere la benedizione del cero pasquale il diacono proclama al popolo la solennità pasquale cantando le lodi di questo sacro oggetto e mentre celebra la gloria di lui di cui è emblema diventa l'araldo della risurrezione l'altare il santuario il vescovo sono tutti nel colore cupo del rito quaresimale solo il diacono è vestito di bianco altre volte non avrebbe la presunzione di alzare la voce come sta per fare ora nel tono solenne di un prefazio ma questa è la vigilia della risurrezione e il diacono come ci dicono gli interpreti della liturgia rappresenta maddalena e le sante donne alle quali nostro signore ha conferito l'onore di essere il primo a conoscere la sua risurrezione e ai quali diede la missione di predicare agli stessi apostoli che era risorto dai morti e che li avrebbe incontrati in galilea uguale 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 la sera la descrizione che abbiamo dato delle magnifiche cerimonie del battesimo ci ha fatto dimenticare il sepolcro in cui riposa il corpo del nostro gesù crocifisso ritorniamo qui con i pensieri perché l'ora della sua risurrezione non è ancora venuta dedichiamo qualche istante alla meditazione sul mistero dei tre giorni durante i quali l'anima del nostro redentore è stata separata dal suo corpo siamo andati questa mattina a visitare il sepolcro dove giace sepolto il nostro gesù sepolto abbiamo adorato quel sacro corpo che maddalena e le sue compagne si preparano ad onorare ungendolo presto domani ora offriamo il tributo della nostra profonda adorazione all'anima del nostro divino maestro non è nel sepolcro dove si trova il suo corpo seguiamolo nel luogo in cui vive in queste ore di separazione al centro della terra ci sono quattro regioni immense in cui nessuno vivente potrà mai entrare è solo per rivelazione divina che conosciamo della loro esistenza il più lontano da noi è l'inferno dei dannati la dimora spaventosa dove satana e i suoi angeli e i reprobi soffrono tormenti eterni è qui che il principe delle tenebre sta sempre formando le sue trame contro dio e le sue creature più vicino a noi è il limbo in cui sono detenute le anime dei bambini che hanno lasciato questo mondo prima di essere rigenerati l'opinione che ha incontrato il maggior favore della chiesa è che queste anime non soffrono alcun tormento e che sebbene non possano mai godere della visione beatifica tuttavia godono di una felicità naturale e proporzionata ai loro desideri sopra la dimora di questi bambini c'è il luogo dell'espiazione dove le anime che hanno lasciato questa vita in stato di grazia si purificano da eventuali macchie di peccati minori o soddisfano il debito di punizione temporale ancora dovuto alla giustizia divina e infine ancora più vicino a noi è il limbo dove sono tenuti dal cielo i santi morti sotto l'antica legge ecco i nostri progenitori abele noè abramo mosè davide e i profeti i giusti gentili come quel grande santo d'arabia giobbe e quei personaggi santi che erano strettamente connessi con nostro signore come gioacchino e anna i genitori della sua beata madre giuseppe il suo sposo e suo padre adottivo e giovanni il suo precursore insieme ai suoi santi genitori zaccaria ed elisabetta fino a quando la porta del cielo non sarà stata aperta dal sangue del redentore nessuno dei giusti potrà ascendere là per quanto santi possano essere stati durante questa vita devono scendere nel limbo dopo la morte incontriamo innumerevoli passaggi dell'antico testamento dove si parla dell'inferno cioè quella porzione delle regioni al centro della terra che chiamiamo limbo come dimora anche del più santo dei servi di dio è solo nel nuovo testamento che si parla del cielo come dimora degli uomini il limbo dei giusti non è un tormento al di là di quello dell'aspettativa e della prigionia le anime che vi abitano sono confermate nella grazia e sono sicure di godere in un certo periodo futuro di una felicità infinita sopportano rassegnatamente questo lungo esilio che è una conseguenza del peccato di adam e mentre vedevano avvicinarsi il tempo per la loro liberazione la loro gioia era al di là di tutto ciò che possiamo immaginare il figlio di dio si è sottomesso ad ogni cosa salvo il peccato che la nostra natura umana deve soffrire o subire è con la sua risurrezione che egli deve trionfare è con la sua sola ascensione che deve aprire le porte del cielo quindi la sua anima essendo stata separata dal suo corpo dalla morte doveva scendere nelle profondità della terra e diventare un compagno con i santi esiliati li egli aveva detto di se stesso il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra tre giorni e tre notti matteo 12 e 40 quale deve essere stata la gioia di questi innumerevoli santi e quanto maestoso non deve essere stato l'ingresso del nostro emmanuele nella loro dimora non appena il nostro gesù esalò l'ultimo respiro sulla croce il limbo dei santi fu illuminato di splendore celeste l'anima del redentore unita alla divinità del verbo discese da lì e la trasformò da luogo di esilio in un vero paradiso così adempì la promessa che aveva fatto al buon ladrone oggi lo farai con me in paradiso l'happy hour tanto atteso da questi santi è arrivato quale lingua poteva dire la loro gioia la loro ammirazione e il loro amore quando videro l'anima di gesù che così viene in mezzo a loro per condividere e chiudere il loro esilio egli guarda compiaciuto a questo numero infinito di suoi eletti questo frutto di 4000 anni della sua grazia questa porzione della sua chiesa acquistata dal suo sangue e alla quale i meriti del suo sangue sono stati applicati dalla misericordia del suo eterno padre ancor prima che fosse versato sul calvario noi che speriamo alla nostra partenza da questo mondo di ascendere a lui che è andato a prepararci un posto in cielo giovanni 14 2 congratuliamoci con gioia con questi nostri santi antenati adoriamo anche la condiscendenza del nostro emmanuele che si degna di trascorrere questi tre giorni nel cuore della terra perché santifichi ogni condizione della nostra natura e prenda su di sé anche quello che non era che uno stato transitorio della nostra esistenza ma il figlio di dio vorrebbe che questa sua visita nelle regioni sotto la nostra terra fosse una manifestazione del suo potere sovrano la sua anima non scende è vero nell'inferno di satana ma fa sentire il suo potere lì il principe di questo mondo è ora costretto a piegare il ginocchio e umilarsi filippo 2 e 10 in questo gesù che ha istigato i giudei a crocifiggere ora riconosce il figlio di dio l'uomo è salvato la morte è conquistata il peccato è cancellato d'ora in poi non è al seno di abramo ma al cielo stesso che le anime dei giusti rese perfette ascenderanno lì per regnare insieme agli angeli fedeli con cristo loro capo divino il regno dell'idolatria deve finire gli altari sui quali gli uomini hanno offerto incenso a satana devono essere distrutti la casa del forte deve essere entrata dal suo avversario divino e i suoi beni devono essere rigati matteo 12 e 29 la scrittura a mano della nostra condanna viene strappata al serpente colosse 2 e 14 la croce che egli aveva preparato in modo così esultante per il giusto è stata il suo rovesciamento o come sant'antonio lo esprime con tanta forza l'esca lanciata alle vetano che prese e prendendola fu conquistata l'anima del nostro gesù fa sentire la sua presenza anche ai giusti che abitano nella dimora dell'espiazione allevia misericordiosamente le loro sofferenze e accorcia il loro purgatorio molti di loro vengono liberati del tutto e numerati con i santi nel limbo dove trascorrono i 40 giorni tra questo e l'ascensione nella felice attesa di ascendere al cielo con il loro liberatore non è contrario ai principi della fede supporre come hanno insegnato diversi teologi dotti che la visita dell'uomo dio all'imbo sia stata una fonte di benedizione e consolazione per la dimora dei bambini non rigenerati e che poi abbiano ricevuto una promessa che sarebbe venuto il tempo in cui sarebbero stati riuniti ai loro corpi e dopo il giorno del giudizio essere collocati in una terra più felice di quella in cui la giustizia divina ora li tiene prigionieri ti adoriamo o anima santa del nostro redentore per il tuo esserti degnato di passare queste ore con i tuoi santi nostri padri nel cuore della terra noi esaltiamo la tua bontà e il tuo amore mostrato verso questi tuoi eletti che tu hai fatto essere tuoi fratelli ti rendiamo grazie per quello che hai umiliato il nostro nemico o dacci la grazia di vincerlo ma ora carissimo gesù è tempo che tu risorga dal tuo sepolcro e riunisca la tua anima al tuo corpo cielo e terra attendono la tua risurrezione la chiesa tua sposa ha già cantato l'alleluia della sua felice attesa risorgete dunque dalla tua tomba o gesù nostra vita trionfa sulla morte e regna il nostro re per sempre uguale 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 questo testo è tratto dall'anno liturgico scritto da don prosper guerranger da non Grazie a tutti.